ciao per la consegna pomeriggio puoi provare a fare così vedere se si apre la panca ok poi quando hai fatto la consegna la chiudi facendo piano e schiacci che si blocchi così controlli che non si apre più tutto questo se si riesce ad aprire perché possiamo ricevere solamente una consegna pomeriggio ok grazie